Guardate che differenza, questo qui più grande è appena entrato da 30 secondi ed è il primo nato sicuramente, tutto più il secondo ma io credo che sia il primo, e quello piccolino è l'ultimo nato, la vedete la differenza di stazza? Ora questo qui più grande ha cominciato a uscire ed entrare dal nido due giorni fa, quindi il piccolo dovrà ancora aspettare e questo pone a rischio il suo futuro perché se la madre si ostina a portare il cibo fuori dal nido dove vede che ci sono i più grandi, lui è destinato a soccombere, anche l'anno scorso il più piccolo ha rischiato di non farcela, che ne dicano i papaveri saccenti che hanno sempre da pontificare e che stanno tutto su tutto sanno. I fatti sono quelli che contano, i fatti li vediamo nei video, non c'è poco da fare. Questo piccolino molte volte, non una, non due ma molte volte è rimasto senza cibo a guardare, non si sa come faccia a sopravvivere, forse mangia qualche avanzo putrido che c'è, che trova qui nel nido spilluzzicando e basta, mentre gli altri si abbuffano. Io non oso pensare cosa sarebbe accaduto se la Giulia avesse fatto 5 o 6 uova perché se andate a documentarvi arrivano anche fino a 6 uova, sicuramente avremmo visto morire gli ultimi due, per forza di cose perché se la Giulia si comporta seguendo gli istinti di natura, perché la natura non è razionale come noi che cerchiamo di proteggere i più deboli, almeno in teoria dovremmo. La natura è spietata, vi ricordate quei documenti sulla cicogna che fanno quattro o cinque figli, se non di più poi vedono che non ce la fanno a sfamarli, ne acchiappano uno o due per il collo, li sbattacchiano e li buttano di sotto. Bella madre natura, eh? Allora a coloro che inneggiano alla natura come madre sapiente io dico questo. Se te hai dato l'istinto alla madre di uccidere i propri figli per mandarne avanti almeno due, bene, potevi ovviare a questo problema facendola meno prolifica, facendo in modo che la cicogna facesse come i piccioni che fanno soltanto due uova. Dico bene, quindi non c'è bisogno di creare dei serial killer anche tra le madri, non c'era bisogno di inventarsi l'infanticidio e poi chiamare madre natura, sapiente, saggia, ma dove? Aveva ragione Giacomo Leopardi che non era certo l'ultimo arrivato quando parlava della natura. Andatevi a leggere il giardino segreto, cercatevelo su Google e leggetelo e poi capirete.